Stiamo volantinando i volantini del nostro candidato presidente alla regione Puglia, Rocco Palese, e in più stiamo raccogliendo proposte perché lui possa integrare il suo programma elettorale e appunto aiutare concretamente e sanare tutte le mancanze proprio in modo concreto. E per quanto fatto finora e per tutte le proposte raccolte sinora, diciamo che tra virgolette il cavallo di battaglia è proprio la sanità e ancora di più maggiori possibilità lavorative per i giovani perché si soffre molto il fatto che appunto i giovani arrivati all'età in cui dovrebbero iniziare a lavorare e poi emigrano al nord e quindi inizia a venir meno proprio la presenza del giovane qui a Lecce così come al sud in modo generale diciamo.